Il treno Eurocity, 56, di Trenitalia, delle ore 18.20, per Basilea, è in partenza dal binario 3. Fermarò Fiera Milano, Stresa, Domodossola, Brig, Bispe, Spiez, Thun, Bern, Olten, Liestal. La prima classe è in testa al treno. Il treno Alta Velocità Frecciargento, 97.51, di Trenitalia, delle ore 17.51, per Bolzano Bozen, è in partenza dal binario 14. Ferma a Brescia, Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento. La prima classe è in coda al treno. Il treno Italo Alta Velocità 81.29, di NTV, delle ore 17.45, per Ancona, è in partenza dal binario 21. Ferma a Bologna Centrale, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro. Carrozza Business, in testa al treno. Il treno Italo Alta Velocità 99.93, di NTV, delle ore 17.45, per Roma Termini, è in partenza dal binario 21. Ferma a Bologna Centrale, Ave Mediopadana, Roma Tiburtina. Carrozza Business, in testa al treno. Il treno Intercity, 613, di Trenitalia, delle ore 15.05, per Pescara, è in partenza dal binario 18. Ferma a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica San Giovanni Gabice, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Porto San Giorgio Fermo, San Benedetto del Tronto, Giulia Nova. La prima classe è in testa al treno. Il treno Alta Velocità Frecciarossa, 95-47, di Trenitalia, delle ore 15.10, per Battitaglia, è in partenza dal binario 15. Ferma a Milano Rogoredo, Reggio Emilia, Ave Mediopadana, Bologna Centrale, Ave, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli a Fragola, Napoli Centrale, Salerno. I livelli Executive Business sono in testa al treno.